L'amministrazione comunale di Capaccio ricorre al Tarra per impedire la realizzazione della centrale elettrica Biomassa e località Sorvella. L'incarico ad assistere l'ente in giudizio è stato affidato all'avvocato Emilio Grimaldi. Il cammino intrapreso dalla maggioranza del sindaco Italo Voza fa seguito all'avvio dell'iter da parte della Biocogein per ottenere l'autorizzazione da parte della regione Campania che ha dato parere favorevole alla cessione della porzione del terreno dove è presente una canaletta del Consorzio Erriguo, circostanza quest'ultima che ha creato l'unico intoppo alla totale disponibilità del fondo. Nel ricorso presentato dal governo Capaccese si chiede l'annullamento con eventuale istanza di sospensione di ogni atto e provvedimento relativo al procedimento di autorizzazione unica proposto dalla società napoletana. La realizzazione della centrale a biomassa Capaccio sembrava fosse una questione chiusa dopo gli ultimi incontri invece hanno fatto sapere i rappresentanti dei diversi comitati di lotta come pure la stessa amministrazione la comunicazione da parte del governo regionale al Consorzio di Bonifica, alla Biocogein e al Comune dimostra chiaramente che la questione è tutt'altro che risolta. Il progetto resta in piedi e non possiamo abbassare la guardia. Grazie. Grazie.